ragazzi sono così nervoso che non mi prende più il cavo della ricarica della gopro non so come fare domani mattina se si scarica non ho più carica batterie non parte non parte nemmeno vicino questo aggeggio qui non parte nemmeno non voglio accenderla tipo perché se no si sveglia mamma